Buongiorno e buona domenica, mi sono da poco alzata, si vede, ho preparato una bella tazza di tè e prima ho mangiato un kiwi, oggi voglio rimanere leggera e niente, praticamente non fate casa la mia faccia, l'idea è quella con mia sorella di passare a prendere Valentina Red Lipstick che andare a fare una giornata, una domenica di shopping e appunto passarla insieme, quindi ho accesso la fotocamera e vi porteremo con noi. Momento trucco, sto per mettere la terra e ringraziamo il trucco che in giornate come queste ti fanno sentire davvero un pochino più decente, perché non so se ve l'ho detto ma sono con antibiotica e raffreddore, intanto mi sono anche cambiata, poi magari vi faccio vedere l'outfit. Nel frattempo sto messaggiando con Valentina che non si riesce a vedere, mi chiede, vabbè io l'informo che ho finito di truccarmi quasi, mi chiede cosa ti sei messa, perché ci diciamo ovviamente anche queste cose e le dico fa troppo caldo. Iniziamo, andiamo a prendere Valentina, è la prima volta che ci vado in macchina da Suona, iniziamo, 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 iniziamo. E quindi col navigatore è il nostro amato amico. Fa un caldo terribile, saranno tipo 80 gradi all'ombra e picchia di brutto. E niente, guardate questo monumento che hanno fatto adesso in Milano, che non si capisce, cosa sia, non si capisce. Ragazzi, questa è arte, quindi ammiriamo e apprezziamo. Vi capire che in Milano non c'è nessuno, poiché saranno tutti andati a mare. No, ma veramente fa un caldo pazzesco. Ah, ma c'è un altro di là di monumento uguale. Non si capisce. Ciao. Alfa Romeo siamo arrivati. Siamo in macchina, voi direte, ma chi sei tu? Sono ovviamente un'amica di Giada e stiamo andando ad Arese. Non so se ve l'ha detto. Cosa gli hai detto? Non l'ho visto. Ho detto che venivamo a prenderti, che oggi andavamo a farci una giornata di shopping, non ricordo se ho detto Arese. E quindi questo. Adesso vi farò vedere il todo. C'è Giada, che è bravissima a guidare. Grazie. Siamo vivi per miracolo. Dice Clara. L'unica cosa che devo dire è che abbiamo guidato piano. Abbiamo guidato piano. Abbiamo la macchina della scuola guida, io anche i pedali. E Valentina l'abbiamo fatta di proposito, l'abbiamo fatta costruire su misura, tre anni dietro. Eccoci, arrivati a destinazione. Ovviamente noi abbiamo iniziato il vlog quando siamo già arrivati a destinazione. Certo, adesso faremo vedere molti negozi, molte cose, è tutto molto interessantissimo. Va bene, oddio! Avevamo detto che guida va bene, no? Per morire in diretta sarebbe molte views, molte views, money, money. E non solo molte views. Vabbè. Proprio morire al centro commerciale e non tutto il tragitto. Ci vediamo dopo. Ma cos'hai da blaterare sempre? Sì, è storda. Cioè, ma io posso avere un'amica così stupida. Stiamo cercando qua. Stiamo facendo un primo piano dei conti. Costriamoci 800 euro di via. Comunque, la gente oggi preferisce un'andata a mare. Si vede che è fatta l'olio, però c'è meno gente. Ma c'è, è sempre pieno. Siamo solo noi, i fessi qui. Io devo fare la pipì. Stiamo cercando, ragazzi, sapete che cosa, che cosa? I bagni. Io amo Bath & Body. Mamma mia. Cioè, ha un profumo pazzesco. Siamo in arrivo da Primark. Guarda se stai dicendo siamo. Infatti un pochino sembrava. Non so se si può filmare, quindi per il momento chiudiamo. Indecise su questo camicione. Già il fatto che non mette a fuoco la telecamera, appunto, come suggerisce Valentina, si rifiuta. Comunque ci sono alcuni vestiti abbrobiosi. Ma che è sto cosa? Orribile. Ma è anche il tessuto in sé. Non dico tanto il modello. Guarda. Però, però. Queste manecuzi ti piace. No, vero? Mamma mia, no. No. Ma quando andiamo a vedere i pirati dei Caraibicini? Noi ci dobbiamo andare, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Ti rifai del pieno pieno dei denti di prima. No, a me piace, ma non mi piace tanto la manica. Ok, siamo ancora fermi su questo qua. Questo cos'è? Una vestaglia? Perché si usano le vestaglie quest'anno? Vale, quelli che cercavi tu all'inizio, no? Abbiamo... Ma ragazzi, secondo me in questo centro commerciale vengono giusto per Prima. Andiamo qua, sopra, e poi andiamo da Tiger. Ok. Vedo che c'è il tappeto e le robe d'entrata. Vale, ci sono i pantaloncini. Quanto c'è il tappeto? Quanto c'è il tappeto? Ah, qua ci sono le tappeto. C'è sia questa. C'è sia questa. Sì? Che troppo bella questa però. Che è quella piccola. A me piace tutto questo. Questa, nera. Però nelle nostre piante per la grandezza che hanno, ci sta? Eh, ma sono neri. Eh dai, va bene. Sono solo due le ho presi. Ah già, da sì, solo due. Sì, sì. Ho tre. Quanto vengono dentro? Due. Vedi tre. Quanto vengono dentro? Che bella. Latte e lipstick. Latte e lipstick. È bellissima. Eh amore, prendine tre. Scusa, dove ne pensiamo? Perché io pensavo. Allora, questo è il resto conto di Primark. Praticamente quanto, quanto tempo siamo stati là dentro? Il tempo di spendere 200 euro. No dai, 200 no, ma... Della serie che stiamo controllando gli scontrini e te una volta che vai da Primark... Perdi la condizione. No, perdi la condizione. Dopo poi non c'è più voglia di entrare in nessun negozio. Oh no. È bello. Infatti non scrivo un cazzo. E poi ci siamo presi una tazza fighissima che se facciamo il video all... Dobbiamo fare il video all di questa giornata. Esatto. Sì. Per ridere! Siamo di cogliale, la soglia. Quale è Clara? Clara. Ma quant'anni ancora hai visto i finanzi? Clara. 46-48. 46... Mamma che... È uscita forse una giornata... Mezz'ora per scegliere un 46-48. Amore, ma non ti mettere con la bocca qua. Sì, vicino, vicino. Già, dammi dai, la tua maglia. Siamo tre mongoloidi, comunque. Quale maglia? Parlo per te. Clara, vista così, sembri scalza. Cosa che la Vale... Si sta facendo tentare. Clara, ne vuoi? No, no, no. Grazie. Da questa bontà, ragazze. Effettivamente è difficile resistere. C'è un aspetto bazzesco. Guarda qui. Vedi? Mi scelta. Sì, 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 mi scelta. 3. Allora, pezzettino piccolo piccolo di questo. Piccolino... Piccolino. Sì, perché poi ne voglio un altro. Quello con le acciughe, i pomodorini, i pomodorotti e i pettini. E i broccoli? No, il broccoli. Ah, quello di broccoli. Molto piccolo, formando... una nuova cosa per il mio bagnante. E' contenta perché ha comprato un cestino per fare qualcosa che hai in mente per il bagno. Sì, grazie. Un tam! Eh? Non ti porti a mano di qui. La sovaccia di genusia. Sì, sono sempre morta, distrutta. Cocino. Io ho una schiena a morire. Algo? Ho fame. E non mangiala. Non lo so. Non lo so. Quando arriverò a casa ho del poll e mi faccio una sessar salad. Va bene? Va bene. Perché oggi non ho pranzato. Una mera. Allora. La nostra giornata di shopping si conclude qui. Qui c'è un sacchetto. Comunque, non so se l'avete già visto, lo vedrete. Comunque ci sarà un video hall. Non so se insieme o che altro. Qui c'è Giara che mi sta riportando a casa. Comunque, alla fine siamo stati principalmente da Primark. E comunque ti distrugge. È immenso. Che Primark è un workout. Sì. Ci siamo uccise. Che dici? Dico, ci siamo uccise. Vogliamo anche Clara nell'hall. Sì. Che non so cosa sia però. Mostrare quello che hai comprato. Ah, ok. Ok. Beh, poi li saluto quando arrivo a casa. Ma secondo te Vale era una 46 e una 48? Sanotte non dormirò. Comunque, vi saluto. Ci vediamo al mio canale, ovviamente. Giornata di shopping finito. Shopping abbastanza intenso anche. Ho legato i capelli perché fa davvero caldissimo. Nonostante siano le sette e mezza. Cioè, davvero ci sono 31 gradi tipo. Eh, niente. Spero questo video vi sia piaciuto. Che vi abbia potuto tenere un po' di compagnia. Presto, come vi ha accennato Valentina, vi faremo il video di tutto quello che abbiamo comprato. Vi mando un grandissimo bacio. Come sempre se vi va, ci vediamo al prossimo video.